L.L. Segretario D.M. al Corriere della Sera. La scissione di Di Battista dall'M5S conferma quanto sia stata sofferta l'adesione di questo movimento al governo Draghi in un passaggio stretto e difficilissimo il PD ha mantenuto una grande unità che gli ha permesso di collocarsi bene e di svolgere un ruolo positivo. Non era scontato. È stata un'altra importante prova che ripropone il PD come forza centrale del cambiamento. Rivendica il segretario D.M. Nicola Zingaretti in un colloquio con il Corriere della Sera. Zingaretti è convinto che la nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e l'EU stanno impedendo che Lega. Forza Italia e Italia Viva possano rappresentare in un senso unico l'esperienza del governo Draghi. Segnandone troppo l'identità e il profilo. Tanto che ora il suo ragionamento ci sono le condizioni perché. Pur nelle difficoltà derivanti dal modello di un governo senza configurazione politica e con la presenza della Lega. Pesi positivamente un'area omogenea e caratterizzata da valori comuni e dalla comune esperienza di governo dell'ultimo anno e mezzo. E sui 5 Stelle il segretario D.M. analizza. La scissione di Di Battista dall'M5S conferma quanto sia stata sofferta l'adesione di questo movimento al governo Draghi. Alla fine la maggioranza che ha prevalso è stata favorita in molta parte da una saggia strategia unitaria che ha visto anche noi protagonisti. che conferma ancora una volta quanto sia stata ridicola l'accusa rivolta a noi di subalternità.